buongiorno parliamo di questo pesco di questo piccolo pesco cresciuto così guardate è nato da una pesca gettata come umido e guardate che fiori l'anno scorso è riuscito a farsi addirittura quattro grosse pesche senza innesto e senza nulla un piccolo spirito libero con molta caparbietà guardate che fiori fiori di pesco per i matrimoni delle cavallette e delle lumache mentre cresceva gli abbiamo messo un piccolo tutore piccolo tutore per tanta bellezza nonostante sia la posizione di vento quanta poesia buona giornata